Ciao a tutti, perché rovini sempre le tue storie d'amore? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, ti ricordo intanto due appuntamenti importanti. Il primo veramente molto importante, Torino, venerdì 24 gennaio 2020, ora 2045. Il mio seminario dal titolo Se soffri non è amore, come conquistare la persona giusta. E il riferimento è 333 15 11 703. Poi l'appuntamento di Milano, Full Immersion, domenica 1 marzo, dal 9.30 al 19, autostima e seduzione in amore nel lavoro. Riferimento sempre a 333 15 11 703. Ricordo inoltre che chi non potesse seguire i corsi dal vivo può abbonarsi al canale Massimo Taramasco. Andando sulla home page del canale Massimo Taramasco, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti abboni e potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. E veniamo al tema. Perché rovini sempre le tue storie, le tue relazioni in amore? Perché ci sono questi meccanismi di autosabotaggio? Perché le cose sembrerebbero magari da un certo punto di vista andare bene, poi fai qualcosa e le cose non vanno più bene. Fai qualcosa e sembra che si rompa una situazione. Cioè entri in una situazione in cui fai magari dei gesti, delle cose, delle situazioni, mostri gelosia, mostri attaccamento, mostri situazioni, mostri cose per cui alla fine, alla fine ti rovini da solo, tra virgolette, ti rovini da sola. Cioè entri in uno stato, in una situazione in cui non provi più piacere, tra virgolette, ma non fai più provare piacere all'altra persona, entri in uno stato di sofferenza. E l'altra persona dopo un po' ti lascia, dopo un po' la relazione si deteriora, dopo un po' le cose non vanno più per il verso giusto e c'è tutta questa situazione estremamente negativa. Ora, perché capita questo? Perché succede questo? Perché rovini sempre le tue storie d'amore e soprattutto come venirne fuori? Allora, il meccanismo di autosabotaggio nasce, come al solito, come molte cose, da un conflitto tra parte logica e parte emotiva, che sono due parti che per definizione sono in contrasto. Parte logica e parte emotiva per definizione sono in contrasto perché la parte logica prende atto della realtà, diciamo così, no? e quindi ha bisogno di stima, tranquillità, considerazione, prende atto di come sono le cose. La parte emotiva prende atto di come sono le cose da un punto di vista emotivo, quindi se ci sono emozioni o meno. E quindi la parte emotiva, se la parte logica, diciamo così, che ha paura un po' delle emozioni, no? teme un po' le emozioni. Se non c'è accordo tra queste due parti, cosa succede? Succede che la sfera logico-razionale ti porterebbe a cercare la tranquillità. La parte emotiva ti porta a cercare la tempesta, diciamo così. La parte logica è una barchetta che vorrebbe navigare sul mare calmo. La parte emotiva è una barchetta che vorrebbe navigare sul mare in tempesta. E quindi c'è uno scontro. E questo scontro può diventare anche molto aspro se le due parti si arroccano, diciamo così. Cioè se la parte emotiva non viene in qualche modo soddisfatta. Perché la parte emotiva ha la forza, tra virgolette. La parte logica dovrebbe avere la direzione. Dovremmo essere noi che molliamo anche i cordoni giustamente delle emozioni e andiamo a capire. Allora, se questo non avviene, diciamo che allora subentra una terza parte, che è il nostro censore, diciamo così, la nostra parte giudicante. Al nostro interno abbiamo un ente giudicante, quello che Freud forse erogneamente chiamato superio, che giudica. Giudica, come dire, perché? Mentre la parte logica prende atto che fai una vita di merda. La parte emotiva ti fa fare una vita di merda perché questa ti dà emozioni. E la parte riflessiva dice, ma perché faccio una vita di merda? E la parte, diciamo così, giudicante. Allora, se c'è giudizio, c'è sentenza. E se c'è sentenza, c'è punzione. Ora, la parte, questa parte censore, questo superio, chi va a, come va a colpire, diciamo così? Beh, va a colpire, va a somministrare delle sanzioni, delle punizioni. E le sanzioni, la prima che somministra è proprio, come dire, l'infelicità. Cioè, quando c'è una qualcosa, se la parte, ad esempio, si schiera, se la parte giudicante si schiera o con uno o con l'altro, cercherà di far fallire un'altra situazione. Ad esempio, cercherà di far fallire la parte emotiva, facendoti precludere il vivere delle emozioni, non vivere delle emozioni positive. Insomma, metti in atto dei meccanismi sabotatori per cui tu, quando sembra che raggiungi un risultato, che ritiene che non dovrebbe essere il risultato giusto, ti fa fallire lì. Ti fa fallire e quindi, alla fine, come dire, questo meccanismo, che dovrebbe essere un meccanismo di difesa, diventa, di fatto, poi alla fine diventa un meccanismo di offesa, perché ti sanziona e ti punisce lì dove tu non vorresti essere né sanzionato né punito, fondamentalmente. Ti fa generare uno stato di infelicità. Quindi tu, inconsapevolmente, diciamo così, perché questi meccanismi di difesa non sono così consapevoli, ti fanno fare delle cose che tu non vorresti fare. Ti generano delle insicurezze, per cui tu indossi delle maschere, non ti comporti più secondo il tuo comportamento reale, ma se temi, ad esempio, di essere deficitario, come uomo o come maschio, ad esempio, diventerai tutto rigore, tutta istituzione. Insomma, le tue emozioni saranno comunque in qualche modo compresse, diciamo così, avvengono delle compressioni emotive, o a favore della sfera emotiva, quando si comprime, diciamo così, la logica e quindi si genera rabbia, fondamentalmente, perché la logica compressa prova rabbia, quando la parte logica o puttato collo deve accettare delle situazioni, prova rabbia, ma, d'altra parte, quando si comprimono le emozioni, poi si generano delle compulsioni. Insomma, questo censore interno che abbiamo ci fa fallire, lì dove logicamente vorremmo riuscire. Quindi esiste solo un sistema per venire fuori da questi meccanismi perversi, un unico sistema, quello di ricreare un'armonia, ricreare una pace interiore. E dobbiamo farlo noi, da un punto di vista logico-razionale, non possiamo aspettare che lo faccia qualcun altro. Cioè, dobbiamo fare delle azioni che vadano un po' a favore della parte emotiva, e ricreare quell'armonia interiore. Io comunque questo, perché altrimenti ci legheremo proprio a situazioni di sofferenza. E il meccanismo di difesa ci farà ancora peggiorare, perché oltre a legarci, ci farà rendere pure infelice, ci farà fallire, lì dove invece logicamente vorremmo riuscire. Tutto questo io comunque lo spiegherò in dettaglio. Torino, a Torino, venerdì 24 gennaio 2020, ora 20.45, e il riferimento è il 333 15 11 703. E il titolo del seminario è Se soffri o non è amore, come conquistare la persona giusta. In più c'è il seminario di Milano, Full Immersion, domenica 1 marzo, dalle 9.30 a 19, autostima e seduzione, in amore nel lavoro. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!